buonasera eccomi di nuovo qua lo so che inizio a scocciare in maniera sorprendente però non resistevo perchè vedete ho incastonato tutti i tre cabochon e ho cominciato la lavorazione vedete alle imbroderi questa volta ragazze per me è spettacolare quindi sono molto emozionata non vedo l'ora di finirla però ovviamente ci vuole moltissimo tempo come vi ho già spiegato una cosa che vi volevo dire molto importante è di utilizzare nel caso in cui usiate per le imbroderi questi componenti che sarebbero questi con i buchini ai lati dovete usare il filo dello stesso colore perchè vedete che a me si vede il filo bianco non è molto estetico però poi magari si confonde all'interno della creazione per quanto riguarda i cabochon che ho incastonato vedete ho incastonato la parte laterale poi li ho circondati insomma ho fatto delle cose che secondo me bellissime ma non perchè sono io che le ho fatte bellissime ma perchè è bellissima la tecnica come sentite sono emozionatissima e nel frattempo sto creando creando degli sto incastonando dei dischi madreperla molto molto carini blu come vi ho insegnato diciamo nel tutorial come vi ho mostrato nel tutorial perchè voglio regalarli ad una mia diciamo una mia amica nel senso che io per chiamare amica una persona sicuramente impiego moltissimo tempo però è una signora diciamo molto molto gradita insomma per quanto mi riguarda a livello sia di discorsi e di di modo di di parlare di pensare quindi diciamo così sono molto diciamo ci siamo fatti una bella chiacchierata di recente e oltre ad averla conosciuta diciamo meglio ho capito anche che è una persona che vale davvero molto quindi gli regalo questi orecchini che sono davvero poca cosa perchè la chiacchierata è stata davvero gratificante gratificante però per il momento è quello che posso fare insomma e niente quindi ero ansiosissima di mostrarvi wow io l'adoro non vedo l'ora di montarlo su questa ninetta bella metallica e ve lo mostro poi quando è finito se resisto fino a che è finito ci vediamo al prossimo video un bacio ciao ciao